Lina Sastri, West Star all'Ischia Film Festival Signora, mi viene subito in mente, vista la location, ricordare il grande successo di Passione un argomento che si sposa molto bene col titolo, con il tema del festival Sì, Passione di Torturro, intendi? Sì, anche se io, insomma, Passione, sono ben felice di Passione, è un bel film Torturro è una persona deliziosa, ma insomma ho fatto un passaggio veloce come sai, ho improvvisato, c'è stata un'improvvisazione dello schiaffo a Ranieri me ne sono andata, è stata una piccola partecipazione la mia al film non canora, stranamente, quindi ero l'unica attrice che canta che non ha cantato in Passione però, insomma, è un bel film Signora, nella sua carriera cinematografica, lei molte volte ha dato fiducia a giovani autori a giovani registi, è un aspetto questo molto importante per dare fiducia al cinema? Ma fiducia si dà a persone giovani o vecchie, indipendentemente dalla loro età, credo per una storia che leggi, per un personaggio che credi sia interessante da raccontare e poi a volte ti fidi di quello che serve, cioè la conoscenza del mezzo tecnico che un giovane può avere o non avere o ti fidi comunque magari di un incontro, di una possibilità, perché no? Dare delle possibilità e averne dagli altri è sempre... la vita si dice l'arte degli incontri, quindi perché no? Cine e turismo è il tema del festival, un'occasione importante, una risorsa importante anche contro la crisi economica, secondo lei? Contro la crisi economica Guarda, forse la crisi economica porterà finalmente a fare poche cose, farle bene e con pochi soldi quindi porterà finalmente alla necessità che è quella cosa bella che determina la verità delle cose quindi una cosa, o a Saifà o non a Saifà sia a Saifà a Fai ci saranno quindi molte persone che non faranno nulla Siamo un'ottimissima battuta per anticipare il suo ritorno al teatro la nuova stagione d'ottobre, Teatro Tiano, una nuova torneia, un progetto molto interessante E musica, io ho finito adesso proprio per la strada questo è stato un anno in cui ho fatto molto teatro ho fatto l'operazione dei soldi con Ranieri ho fatto la casa di Ninetta che ho scritto io ho dedicato a mia madre, ho fatto la casa di Bernardo Alvari Garzia Lorca con la regia di Luis Pasqual, parliamo sempre di teatro ho fatto Santa Giovanna al Rogo nell'oratorio di O'Honegger ho fatto per la strada musicale, sempre mio è un po' di tempo che voglio dopo tante cose insomma dedicarmi un pochino alla musica di più e quindi ci sarà a Napoli e poi a Palermo insomma Napoli comincia e debutta lì Napoli, 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 Napoli che vuol dire che Napoli comincia con la fine del mio nome che è Lina, Napoli e il nome di Napoli che è Napoli finisce con l'inizio del mio nome che è Lina quindi Lina, Napoli, in musica film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Bui e Susanna Nicchiarelli che oltre che regista e anche interpreta con la mia partecipazione che è La scoperta dell'Alba che dovrebbe uscire forse al Festival di Venezia ed è in uscita insomma e me lo devo fare per forza un'altra domanda lei e Margherita Bui sul set, due mostri che si incontrano? no, due persone, due attrici tranquille assolutamente che si stimavano credo l'una con l'altra che si scambiavano un po' di battute divertenti fuori dal set perché sul set dovevamo essere un po' diverse e dirette da una terza donna molto giovane che è Susanna Nicchiarelli quindi un trio di donne mi sembra molto interessante